no buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione oggi ragazzi parleremo di fratelli fratelli parenti serpenti fratelli perché nell'ambito nell'ambiente della stessa famiglia il più delle volte non si va d'accordo con i parenti con i fratelli e sono rare le eccezioni in cui fra fratelli si parla da cosa dipende secondo te bene la mia risposta dalle mie esperienze personali sia los angeles che della mia associazione ipnologi associati di bever hills dipende dal passato negativo dai genitori in primis dai parenti in primis perché i bambini non sono altro che delle spugne che vengono ipnotizzati h24 dai famosi giganti che si chiamano adulti a loro volta vittime di altre vittime per cui se tu con tuo fratello tua sorella non ti parli oppure gli sbatti il telefono in faccia gli chiudi spesso volentieri litighi ti offendi per te non gli parli più per tot giorni per tot settimane oppure a vita ricordati chi e quando da piccolino si comportava in questo modo papà mamma zio nonno amico vicino di casa eccetera 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 da lì parte adesso tu mi dirai che cosa che vedere tutte queste belle parole benissimo io adesso ho capito il perché il per come con l'ipnosi dcs vera e professionale ipnosi metodo dcs vera e professionale che è diversa dall'ipnosi conformista e commerciale beh a che vedere perché se tu togli quella convinzione quell'educazione del tuo subcosciente del tuo pilota automatico quel programma inconscio come qualcuno lo definisce quelle immagini quel virus visto che siamo in tema di coronavirus tu puoi dire montagna spostati la montagna si sposterà tornerai a parlare con tuo fratello tua madre tuo padre come se nulla fosse ti ricorderai tutto di ciò che è successo ma la ti scivolerà addosso lo sgarro il problema perdonerai senza perdonare perché il trucco ragazzi è convincere il tuo subcosciente la chiave del tuo subcosciente che apre la cassaforte è soltanto la parola ipnotica ad ad arte ad hoc che puoi dire al tuo subcosciente per dire ascolta cancella quelle immagini che mi fanno reagire sempre in malo modo ogni volta che mio fratello mia sorella mio padre mia madre i miei parenti si comportano in un certo modo e aggiungo anche i miei amici perché tutto parte dal tuo passato negativo e l'ipnosi non è altro che il cancelletto della tua lavagna mentale che ti fa di nuovo tornare pulito resettato al punto di partenza cosa succede a livello mentale succede che tu ti ricordi ma scarichi quei trigger quelle ancore come li definisce anche la pennelle quelle suggestioni post ipnotiche quei campanelli che suonano ogni volta che si verifica una certa situazione che colpisce i tuoi sensi i tuoi cinque sensi aggiungo anche il tuo sesto senso per cui non devi credere al sottoscritto utilizzare ipnosi per uscirtene dal passato negativo nella mia associazione abbiamo creato un bellissimo mp3 molto potente di suggestioni vere e professionali dal titolo no passato negativo che ti fanno eliminare tutto il passato negativo che alberga nel tuo cuore nel tuo subcosciente nel tuo pilota automatico e che ti fanno litigare o offenderti per nulla contro tuo fratello tua sorella i tuoi parenti la tua famiglia cosa succede non te può fregare di meno quando tu elimini ciò che ti fa perdere la pazienza ciò che ti la causa che ti fa offendere o litigare per nulla per sciocchezza che ti concentrerai soltanto sulle cose più belle della tua vita e andrai d'amore e d'accordo non è un modo di dire l'ho esperito e sperimentato sulla mia persona su centinaia e centinaia di persone nel mondo e funziona guarda caso il metodo dicesse anche per il tuo caro che non ne vuole sapere a patto è che tu abiti nella stessa casa e se segui alla lettera l'istruzione a prova di nonna a prova di pigro a prova di idiota che io ti darò una volta che scarichi il file ok fammi tutte le domande del caso visto la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor Claudio Saracino a visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cese del dottor Claudio Saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può far cambiare la vita senza mai senza se come è successo anche al sottoscritto dal 2008 ad oggi e visita anche i profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cese del dottor Claudio Saracino e ricordati non devi credere a me devi credere al potere della tua mente tu non sei nato con fratelli coltelli parenti serpenti non sei nato con queste suggestioni per cui ho già il potere di uscirtene ok senza mai senza se un bacio un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima